Con la performance dell'illustratore di fama internazionale Max Frezzato, che ha dipinto dal vivo su tela un bambino davanti ai suoi presunti obblighi, si è aperta a Palazzo Lascaris la mostra C'era una volta giocando con le favole, disegni, bambini, diritti. La mostra fa riflettere sul valore pedagogico delle favole, che ci portano dentro tetre foreste popolate da creature feroci, ma al tempo stesso ci aiutano a sconfiggere le paure. E alla fine anche la bimba e il lupo possono osservare insieme lo spuntare di un fiore e di una fragola. Tutti temi affrontati in una quarantina di opere che rileggono Cappuccetto Rosso, Pinocchio, Peter Pan, oltre ad alcune tavole tratte dalla fiaba di Frezzato, la città delle cose dimenticate. Il suo mondo delle maledette fiabe, come ha voluto chiamarle lui perché è sempre molto carico di ironia, ha abbracciato capolavori della territoria italiana come Pinocchio di Collodi, Cappuccetto Rosso, Peter Pan, lo scopo di questa mostra è di collegare questi disegni che ci raccontano il sogno dell'infanzia con i diritti spesso negati dell'infanzia. Credo che la scelta come artista di partecipare a questo tipo di progetti sia più che una scelta un obbligo. Dovremmo a mio avviso tutti collaborare per poter far sì che l'infanzia sia meno vittima, non di evidenti sopprusi, che quelli lì sono fin troppo evidenziabili e condannabili, ma di sopprusi minori, come può essere il fatto di relegarli davanti a una televisione, o davanti a un computer, o davanti a un cellulare. È una mostra che è in linea con gli obiettivi del Consiglio, per cui si parla anche di diritti semplici, come il diritto all'ozio per esempio, quindi ci sono tutta una serie di rimandi e di riferimenti. È un modo per parlare dei diritti dei bambini ed è una mostra che può funzionare benissimo sia per i bambini ma soprattutto anche per gli adulti. La garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza Rita Turino, intervenuta in apertura, ha sottolineato come le favole con le figure dei buoni e dei cattivi aiutino i bambini a capire da che parte stare a schierarsi, costituiscono quindi un tassello importante della loro crescita. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 31 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, ingresso gratuito.